la domenica l'aperitivo firmato sunset beach siamo a cervia ciao a tutti da parte di matteo sandri abbiamo qua giulia ovviamente dj furao e andrea belle mani benvenuti grazie grazie mille location sempre più bella anche quest'anno è una coppia che si è formata artisticamente in quest'estate 2022 raccontateci un po che succede le domeniche qui al sunset siamo partiti l'anno scorso con la gostosa la domenica agostosa ti ricordi matte e quest'anno stiamo crescendo quindi andrea è diventato parte assolutamente integrante del nostro staff perché ci voleva un vocalist non posso fare tutto da sola per cui passeremo tutta l'estate insieme qua sotto la sole io ho sempre affezionato a cervia mi fa un gran piacere che mi abbiano adottato e stiamo facendo un'estate veramente bella caldissima con degli allestimenti stupendi la musica è meravigliosa e quindi vi aspettiamo naturalmente tutte le domeniche ragazzi io vi auguro una buonissima estate perché avete un calendario ricchissimo finalmente da superstar quindi era ora anche doppi anche triple grandi grazie ragazzi buon lavoro adesso gustatevi le immagini e la loro musica qui su is good for you dal sunset di cervia